Ammazza che sonno ciò! Bisognerà avvertire Basilio? No? No? Ma non avevamo deciso che noi... Sì, le parlerò io. E allora? Allora bisogna chiamarla. Ah, Ines. Dunque, conte, sai? Il conte è Paolo, d'accordo? D'accordo. Ma no, Rosa. Lo sai che si accende dopo? La mi scusi, signora. Finché c'è un po' di sole? Ecco. La padrona deve parlarti. Senti, Basilia. Domani arriva il conte Paolo Balzeri. Sai, il cugino del padrone. Arriva e si fermerà a lungo, forse. Non ti ho avvertita prima perché fino a ieri non sapevamo, non eravamo sicuri. Dunque, prepara la camera degli ospiti. Per il conte Paolo, il cugino del padrone, capisci? Ah, il generale. È conte. E bisogna chiamarlo conte. Sì, sì, lo so, ma lui era... Ufficiale. Lo sappiamo, è stato ufficiale. Ma per tutti qua in città, adesso, è Paolo Balzeri. Il conte Paolo, capisci? Sì, signora Ines, so benissimo che è conte. Ma io l'ho sempre chiamato eccellenza perché era... Generale. Austriaco. E adesso è italiano. E come italiano non è più generale ma è ancora conte. Va bene? Benissimo. Credimi, l'unica è di aspettarlo qua in casa, mi pare la cosa migliore. La carrozza non l'abbiamo. Disturbo ormai, ce ne darà poco, no? Ci mancherebbe altro. Cosa? No, dico, fermarsi qua quanto vuole. È casa sua, si dice di no. Tanto sua quanto nostra. Cosa hai paura? E voglia fare il padrone? Ci mancherebbe anche questa. Ci mancherebbe anche questa.